Venire qui è come stare a casa. Per me questa è la mia casa. Io se non avessi il cane, io dormirei anche. Io a casa devo rientrare per il cane, ma altrimenti io non la lascerei mai, 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 mai. Per me quella mattina quando apro dico ecco qua, inizia una bella giornata, inizia. I momenti brutti ci sono stati, tanti, tanti. Però i momenti brutti devono essere superati da quelli belli. C'erano tante foto di bambini che non ce l'hanno fatto. Bambini e anche adulti che non ce l'hanno fatto. Per me no. Adesso, da tanto tempo, da quando io la gestisco, ci sono le foto dei loro disegni. E i disegni praticamente rispecchiano l'anima dei bambini. Veramente una cosa incredibile. Abbiamo dietro di me una piccola fattoria. Ogni bambino mette un animaletto, quello che gli piace di più. E questa è la fattoria dei bambini. E i disegni sono pieni di gioia, di colori, come deve essere un bambino. Ma anche un adulto, io certe volte dico anche, ma che non sapete disegnare? E gli adulti si vergognano, i bambini no. Questa è una casa. Noi accogliamo tutti. Piccoli, grandi, persone che vengono dall'Ucraina, dalla Romania. Persone che vengono dallo Sri Lanka. Persone che vengono anche dall'Africa. Qui, per esempio, non abbiamo avuto donne col burka, però abbiamo avuto donne col velo. E certe volte tra donne dicono, ma perché non chiacchierate? Noi prendevamo, prima quando c'erano delle persone musulmane, delle donne musulmane, facevamo il tè, facevamo dei biscottini buonissimi. E quindi anche noi abbiamo avuto Singh, che per me è stato eccezionale. Ci faceva assaggiare il pollo fatto all'indiana, dico io. Ma era una loro specialità. E quindi mangiavamo tutti assieme. Abbiamo avuto gli ucraini, che fanno un'insalata russa, che non è quella nostra. Quindi praticamente ho cercato sempre, soprattutto quando sono tutti nella sala ristoro. Beh, adesso ognuno fa una cosa e mangiamo tutti quanti assieme. Questo sì. Per me è essenziale il rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni. Noi abbiamo avuto persone che erano induiste, persone che erano musulmane, che hanno convissuto assieme. Beh, io vi dirò che è stata un'esperienza bellissima. E' bellissima, perché i musulmani, per esempio, tolgono il Gesù, il crocifisso che abbiamo in stanza. E io non ho niente da dire. Ognuno professa la religione che vuole. Professa. E quando si cucina, mi raccomando, io dico sempre, se c'è un musulmano, non cucinate il maiale, rispettate. Così noi rispettiamo. Questo per me è essenziale. E se c'è qualcuno che mi viene a dire, ma no, perché no, 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 perché no. Dovete convivere. La malattia unisce, non divide.